shalom fratelli e sorelle in cristo gesù va al giordano per farsi battezzare da giovanni gesù va sempre dove devi andare e fa sempre ciò che deve fare non fa mai niente per caso non fare niente per caso deve diventare il nostro modo di scegliere come vivere la giornata è la ragione per cui sin da piccoli ci hanno insegnato a iniziare la giornata con il segno della croce cioè con la preghiera con la preghiera del mattino affidi al signore la tua giornata i tuoi affetti più cari le cose da fare ma insieme a tutto questo c'è la richiesta sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra è la preghiera del padre nostro che mai deve mancare nei nostri momenti di preghiera gesù viveva in questo modo non facendo niente per caso ma facendo la volontà di suo padre allo stesso modo vive giovanni battista battezzare gesù è il suo atto di obbedienza a dio sa che deve battezzare il figlio di dio e ne prova vergogna senso di inadeguatezza tuttavia obbedisce obbedisce a dio quando da maestro ha dovuto indicare il maestro l'agnello di dio colui che toglie il peccato del mondo sapeva che da quel momento in poi il suo ruolo sarebbe cambiato da maestro a testimone dell'agnello di dio obbedisce a dio e testimonia suo figlio con le parole ho contemplato lo spirito di scendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui io non lo conoscevo ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo spirito è lui che battezza nello spirito santo e io ho visto e ho testimoniato che questi è il figlio di dio ma oltre alle parole poi lo testimonierà con la vita con la sua stessa vita con il suo martirio temete e onorate lodate e benedite ringraziate adorate il signore di ogni potente nella trinità e nell'unità padre figlio e spirito santo creatore di tutte le cose uniti nel caritas sinemodo e quindi